Netto incremento di nuovi casi di Covid nell'ultima settimana, percentuale di vaccinati ben al di sotto della media nazionale e numeri sempre pesanti nel conto delle vittime, tre fronti su cui Friuli Venezia Giulia appare tristemente in difficoltà. Secondo il monitoraggio condotto dalla Fondazione Gimbe, nella settimana dal 9 al 15 marzo la nostra regione ha registrato una performance in peggioramento per i casi positivi su 100.000 abitanti, pari a 1.523, e si è evidenziato un aumento dei nuovi casi pari al 28,8%, sempre secondo il report. In regione la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari all'81,3% a fronte di una media italiana dell'83,8. Il 2,2% è fermo alla prima dose contro l'1,8% nazionale, mentre il tasso di copertura vaccinale con dose booster è dell'82,6% a fronte dell'83,5% della penisola. Drammatico anche il dato sulle vittime, i peggiori in Italia, con 161 morti per 100.000 abitanti al 2 marzo scorso. Oggi nuovi casi risultano 1.241, 195 più di ieri, messi in luce da 13.225 tamponi, con un tasso di positività quindi del 9,38%. Le vittime sono 6, che portano il totale da inizio pandemia a quota 4.850. La situazione degli ospedali resta ancora al di sotto delle soglie critiche. I ricoverati in terapia intensiva sono 8, 1 o meno di ieri, quelli nei reparti ordinari 133, 3 in più. In aumento anche le persone in isolamento, al momento se ne contano 19.249,620 più di ieri. Grazie. Grazie.